Questo fine settimana si è tenuto il rally mondiale di Sardegna, un incidente imprevisto fra una mucca e un'auto da corsa solleva questioni sulla sicurezza. Ce ne parla nel servizio Cristina Sanna. Non ce l'ha presa in piedi. Non ce l'ha fatta a noi. Durante una delle tappe del rally di Sardegna, un'auto da rally ad alta velocità è entrata in collisione con una mucca che si trovava sulla strada. L'incidente ha causato danni significativi all'auto e purtroppo la mucca è rimasta gravemente ferita. La sicurezza è sempre stata una priorità negli eventi motoristici, ma incidenti come quelli che si è verificato durante il rally di Sardegna evidenziano la necessità di ulteriori misure preventive. Gli organizzatori degli eventi devono considerare attentamente il percorso delle gare e adottare misure adeguate per prevenire l'ingresso di animali sulla strada, come l'installazione di recinzioni o l'impiego di personale per controllare la presenza di animali lungo il percorso. No! 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 No!